Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Partita molto sofferta contro l'ultima in classifica, nessuno se l'aspettava così? Allora, così forse no, però io ieri quando nell'intervista dicevo che la partita sarebbe stata dura, lo dicevo perché è cognizione di causa, perché loro quando vengono qua le squadre non hanno niente da perdere con questo stadio, con questo pubblico commovente come è stato oggi, vogliono dare sempre il massimo, vogliono farsi vedere. E noi l'abbiamo sofferto, abbiamo sofferto, non abbiamo approcciato bene la partita purtroppo e non era facile neanche ribaltarla al secondo tempo, siamo stati tanto non bravi il primo tempo, poi al secondo tempo però l'attaccamento alla maglia e si è visto anche, sono uscite fuori anche le qualità dei giocatori e abbiamo vinto, dai. Domenica lavoreremo questa settimana per andare a vincere a Pineto, però non dimentichiamo quando abbiamo preso questa squadra, dove stavamo e andarci a giocare l'ultima partita, questa qualifazione playoff da quarte addirittura è qualcosa secondo me di grande e di importante. È un oggettivo che abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato tante cose, forse adesso a mente quasi fredda, ci può stare un po' che i ragazzi siano arrivati a questa partita stanchi e niente, poi le partite vanno giocate, vanno sofferte, loro hanno fatto la loro partita più che la nostra partita, però forse dobbiamo fare un po' più noi di mea culpa, perché? Perché non dovevamo arrivare a trovarci in questa situazione, abbiamo fatto tantissimo da quando siamo arrivati io e Sante e ci manca ancora un passettino, vediamo se riusciamo a farlo.